la bionda questa qua è pazzino saranno i cappelli, saranno gli occhi, le labbra come se fosse la donna per me secondo me la mamma ha imparato qualche cosa sarà per sapere e non è di lasciar perdere la cosa che mi frega è che sono timido cioè è tutto apparente nel senso che mi piace ho l'occhiolino sei tu che ti stai e da mezz'occhi stiamo guardando e mi raccomando state qua vai e invitala si vai e invitala come devo fare ti devi altare vai la piacere Michele signori vieni a fare un giro con me è luce è tutto ti devo dire siamo nel terzo millennio perché poi rimango senza parole non so che dire una volta che ce l'ho a fianco a me non riesco a parlare non hai bisogno di trovare nessuna parola vai al signorino vieni a fare un giro con me te la metti in macchina e te la vai a un posticino buio subito, veloce anzi ti dico che cosa è successo qualche giorno fa ho rimorchiato una ragazza l'ho messa in macchina siamo andati in un posticino buio le ho detto signorino me la dai me la dai? si quel mi ha detto no sai che cosa le ho detto ora scendi dalla macchina vattene a piedi veloce così si fa proprio immediato si che? dammi un foglietto sai un foglietto foglio di carta questo sta bene c'è la porto in macchina beh e poi? immediato signorino me la dai me la dai? eh signorino me la dai? me la dai? non me la dai non la apro me la dai signorino me la dai signorino me la dai signorino me la dai me cosa ha detto a te? a me ha detto no no allora si dice no io ho detto ora devi scendere la macchina vattene a piedi eh ora devi scendere la macchina e vattene a piedi e vattene a piedi e poi non sei andato è chiaro lo lasciate a piedi ora vai alti e date da parte signorino me la dai? no eh ora devi scendere la macchina l'uomo devi fare che faccio? ma io vado vai va flacce t'ora pesce dai pesce becce sono ssh izi pesce 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 Für Grazie a tutti. Ma? Allora? Allora, niente, io... Stavo pensando, cioè, al ristorante, voglio dire, cioè, lascia anche il tempo che trova. E quindi ho pensato, come ti ho visto là, no? Ho detto, ma, almeno, pur per sapere il nome, il cognome, e vedi? Sì, ma mi porti da qualche parte? Da qualche parte? Voglio dire... Aspettate, io ti dovevo dire una cosa... Ma, e... Dunque... Ma, dire la verità, volevo dirti... Me la dai? Sì. Me la dai? Sì, va bene. Sì. 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 No, cioè, perché... Me la dai, no? Allora, scendi. Ma, scendi. Eh, vabbè, che ti devo dire? A questo punto, l'unica cosa che posso fare è scendo io e me ne vado io a piedi. E io? Ma questo non lo so. Perché era più facile se dicevi no.